Ben trovati all'appuntamento con le provisioni del tempo. Cominciamo con la situazione generale in Europa. Un'unica condizione di bassa pressione si avvicina verso il nord Italia, portando con sé nuvolosità irregolare e qualche pioggia. Mentre un'altra situazione di bassa pressione è in arrivo verso l'Inghilterra. Provisioni per il sud Italia per il primo settembre 2014, partendo dal sud, con condizioni generali di bel tempo su Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nuvolosità irregolare nel centro e nel nord Italia con piogge sparse, temperature comprese tra 25 e 28 gradi con venti di direzione variabili e mari poco mossi, il mare Adriatico e lo Ionio.